Presidente Quaglieri, una conferenza stampa questa mattina per presentare le novità introdotte dalla legge sulla medicina dello sport, ma diciamo subito a chi ci ascolta, che cosa cambia, quali sono le cose positive che introduce questa legge? La legge 59 è una legge che permetterà una maggiore fruibilità e maggior facilità di accesso da parte degli atleti alle certificazioni medico-sportive, e quindi all'idoneità e alla tutela della salute degli atleti stessi. In Abruzzo in questo momento ci sono circa 26 strutture autorizzate, di quanto si crescerà? La grande novità di questa legge è che si ridà dignità ai medici che hanno conseguito la specializzazione in medicina sportiva, in quanto il tetto di apertura dei centri, degli ambulatori, delle strutture pubbliche in maniera complessiva scendono a circa 1 su 10.000 abitanti. Questo permetterà l'apertura di circa 96 posizioni per poter eseguire le certificazioni, perlomeno quelle del primo livello, le certificazioni e quindi l'idoneità sportiva all'attività per quanto riguarda gli atleti. Vengono introdotte anche novità in tema di doping e di tutela sanitaria degli atleti. Ci spieghi meglio? Questa legge identifica nel centro diagnostico di Pescara il centro di doping regionale, quindi che va a tutela di tutti gli atleti che si affacciano all'attività sportiva in maniera sana. Ulteriormente la grande novità è l'istituzione del registro informatico dell'idoneità all'esercizio della pratica sportiva, che renderà facile l'accesso da parte dei giudici di gara, quindi alle notizie in merito alla salute dell'atleta stesso.